Ed eccoci qui al premio 7 colli giallorossi, è vero? 7 colli, 7 colli È la sesta edizione, io sono 42, 7 per 6, sono 42 Sono stata premiata lo scorso anno, quest'anno premierò qualcuno? Ascoltami, lo sai chi premierò? Chi pre... uno bravo Siamo qui per Radio Manamanolius 24 e premierò proprio te, il grande comico, famosissimo Maurizio Battista con cui ho lavorato per tre edizioni di Buona Domenica E allora sei contento, un premio è la romanista Tuo romanista, a te, come romano Sei contento? Contento, poi mi premi te, contentissimo E poi insomma non si può mancare, i colli sono 7, senti sbrighi Trampano, abbattono E poi la Roma sta andando bene, che io vogliamo dire Speriamo Domenica, ci conto tanto Grazie a tutti Vogliamo fare un saluto affettuoso a tutti i nostri amici di Radio Manamanolius 24 da Maurizio Battista Un Manamano a tutti da Maurizio Battista, pure un poco poco Va bene, Manamano a poco poco Ci sentiamo presto Ciao Ma chi c'è?